e ciao ragazzi io non so il mio nome oggi siamo tornati su pikuniku un gioco nuovo sono con un mio amico non so se vorrà parlare salve eccolo e iniziamo col livello 1 abbiamo già giocato in precedenza e quindi c'è meno ti ricordi come abbiamo diciamo litigato più meno per sto gioco per esattamente per questo motivo qui di qua che ci salci ecco 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 se io non è così se ne facciamo così e magari non tirano c'era quasi no allora questo gioco è molto complesso e quindi ci porteremo una serie su questo gioco forse forse non i calci ah sì e ora perché a meno qua di qua qua bisognava prendere la palla vai non mi avrai adesso vai 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 dio ecco fatto invece sì che mi serve devo dare la sua ok madonna so io così apri perfetto vai ok vai guarda che però qua ecco abbiamo finito vai via fateci sapere se volete vedere altri giochi in coop o comunque tipo questi ad esempio che ne so gang beast qual era l'altro aspettate che controllo a quel gioco lì della quello che tu sei una pausa una paperella e deve prele dovete fare i bordelli a e non andare avanti te vai avanti davvero venda ma bello fateci sapere se volete consigliare consigliare vi posso consigliare di votare di spingere quell'altra perché sono molto belli ti devi tenere aiuto si è rotto no ok 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 soddisfatti ok 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 un piccolo sto per sarmi che giuro rimanici e quindi non vedo l'ora di arrivare di andare su gang bis no sì così di questo viene no no aspetta vai dovevo tirare il calcio in tutto e due di tempo è uguale ok ok supposta è una giusto mi hai dimenticato vai su finire me magari vieni qui devo dire che perché ogni tanto zoppico mi sei non abbiamo finito ah qui dobbiamo mettere aspettate un attimo ok ho messo manca l'ultima vai 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 dammi il calcio no magari non lì vai ah oh riusciremo oh vai il calcio devi darmi il calcio vai vai no vai 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 no si eh eh il calcio te no ecco perfetto sì intanto dobbiamo metterlo là vai mandatela ah 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 attento non darmi i calci mmm noi facciamo parkour facciamo i giri della morte adesso che avvi vai aspetta aspetta è talmente semplice poi siamo arrivati vai Guido io No, no, voglio guidare io Livello completato 6 minuti Per il momento è record Credo Non hanno il 5 E i piedini perché non hanno le manine Oddio Noi Ci abbiamo già giocato Pochi livelli E mi pare che Questo Insieme Devo sanno dire Aiuto La macchina è mia Aspetta Vinco io Ti recupero No Ti ho superato No Ti ho recuperato Aspetta Ho la macchina L'ho superato Vai 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 Da che vinco io Hai vinto te Davanti Due minuti e cinque secondi Credo Credo che sia un record Oh no Questo livello è complicatissimo Fammi pensare Come potremmo fare Dobbiamo staccarci Aspetta c'è una forbice Se tagliassi il monitor Se tagliassi il monitor Qua Vierde qua Andiamo Weee Ok Dove Affancicci Ricina Weee Weee Dove vai Dobbiamo Portare La palla Oh L'aspetti di saltare Vieni qui Perché ti rogali Fermo Non riesco a smettere Sono bloccato Ok Andiamo Proviamo Andiamo Vieni Vieni qua No Tirami Tirami Ok No Ok C'è sto livello Ok Perfetto Che fanno Andiamo I calci Ah questo video Probabilmente Non verrà nemmeno Montato E Non Sinceramente Non mi va Di montarlo Ogni tanto Si frizza tutto Perché io apro Cosa Sicura Per tutti Sì per tutte le cose Che No grazie Tutti i problemi Vieni di qua No Guido io Finalmente ce l'abbiamo fatta Quattro minuti Quattro minuti quasi No basta Siamo a 10-12 minuti di video Direi Che Possiamo Anche fermarci così Forse Probabilmente il prossimo video Che vedrete Sarà quello di Gangobis Sempre che a qualcuno Non gli va di farlo Di tanti Non gli va di non farlo Vabbè Detto questo Ci vediamo al prossimo video Ciao Saluto anche te Ciao 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 Ciao